La toga fissa sulle spalle, i gesti di chi si rivolge a tutta l'aule e non solo alla corte. Si è giocato il tutto per tutto Nini Reina, legale di Silvana Saguto, ex magistrata condannata a otto anni e sei mesi in primo grado per corruzione e abuso d'ufficio, tra gli altri reati. In un'ultima lunga appassionata discussione in appello, l'avvocato Reina ha aperto con un overture dedicato al senso di giustizia di Sciascia e al simbolo della libertà di Nelson Mandela. Giustizia e mito, il sentimento di giustizia contro la norma penale. La mediaticità di un processo che si è discusso tra le pagine dei giornali e l'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta. Ha voluto così mettere un punto fermo su cosa è il diritto fluido penale, rifacendosi alla teoria sociologica della modernità di Baumann, la società che influenza la norma. In un crescendo rossiniano in cui Reina, prima di entrare nell'essenza dei singoli reati, molti sono caduti in primo grado, ha voluto raccontare con la metafora dell'uomo che si affida all'uomo il dubbio dell'avvocato, l'ansia di chi attende il proprio destino. Ha parlato per cinque ore Nini Reina mettendo in fila i fatti così come ricostruiti dalla difesa e contestando uno per uno gli addebiti mossi alla dottoressa Saguto. Dal debito al supermercato, all'induzione in debita nei rapporti con Walter Virga, agli incarichi del marito Lorenzo Caramma già condannato in primo grado. E proprio su questo punto Reina ha parlato della distinzione tra reato e opportunità. La prossima udienza toccherà al reato madre del processo, i 20.000 euro nel trolley secondo l'accusa dati nottetempo a Silvana Saguto dall'avvocato Gaetano Cappellano Seminara.